ragazzi cosa vi devo dire oggi ditemi cosa dobbiamo commentare fatemi sapere cosa dobbiamo commentare dobbiamo commentare questo scempio quest'ennesimo scempio di questa partita brutta che abbiamo fatto oggi ma come cazzo è possibile ma qui ci legamo la palla e manco noi segniamo come cazzo è possibile facciamo schifo cazzo facciamo schifo 500 di riporto fatto sangue ci hanno fatto una rete del merda come cazzo è possibile contro una squadra mediocre che secondo me ha anche giustamente pareggiato sì ha giustamente pareggiato perché la differenza fra il Lecce e Lentella è abissale quindi una squadra che si è chiusa ha fatto quello che poteva fare non c'è nulla da dire a Lentella ha fatto quello che doveva fare noi facciamo cagare porco giuda facciamo cagare mannaggia l'osteria come cazzo non fare non facciamo schifo cazzo facciamo schifo pettinare tica sotto lo portiere nella minisubra poi ci teniamo lo portiere vabbè praticamente era the wall proprio il muro proprio incredibile proprio tutto appreso tutto tutto non si capisce il calzo apparato anche sul gol dicevo gol magari no perché stavo troppo scoglionato no non mi piace così non va bene proprio no 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 sono rimasto proprio di merda cioè io quando stavo tipo al 60esimo ormai mi aspettavo il pareggio ormai anzi anzi addirittura pensavo che potevano segnare pure loro di perdere perché questa qua è una sconfitta parliamoci chiaro un'ennesima sconfitta ditemi voi con con chi cazzo dobbiamo vincere non vinciamo con Lentella non vinciamo col pescara non vinciamo col Brescia abbiamo vinto col cosenza così a pura botta di culo anche con la Cremonese con chi cazzo dobbiamo vincere con il Monza non lo so secondo me no non lo so ma che gioca allora se dobbiamo se pareggiamo col Monza e compagnia bella e l'Empoli non lo so che cazzo devo dire guarda sono troppo scoglionato no 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 ditemi voi no vabbè oggi ho visto proprio il bar a trovare non so che cazzo dire perché se troppo no se troppo scoglionato cioè se proprio sto proprio schifato troppo schifato 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 non voglio manco parlare dei singoli l'unica cosa diciamo l'unici che hanno giocato bene sono stati i difensori il resto hanno fatto cagare hanno fatto proprio cagare per me sì è vero che abbiamo costruito tanto quello che è però troppo lenti troppo leziosi toppi passaggini così primo tempo abbiamo giocato pure abbastanza bene al secondo tempo niente niente proprio secondo me non lo so non c'è un non lo so non c'è un buon gioco non c'è un cazzo solo passaggi così di prima così passaggio e basta così non ci sono verticalizzazioni non ci sono diciamo ingressi che infatti corino diceva ingressi dei diciamo dei centrocampisti enderson e bork non c'entravano mai non c'entravano mai dai ma che cazzo porco giuda come cazzo non fare ma la vinciamo col monza con l'empoli e con la cittadella e pareggiamo e perdiamo con le ultime vabbè ci ribaltiamo vabbè allora se vinciamo col monza empoli e compagnia bella allora andiamo andiamo d'accordo allora va bene a quindi dobbiamo fare al contrario quindi vuol darsi pure che vinciamo col monza l'empoli e perdiamo e pareggiamo con le ultime classifica facciamo così ecco siamo fare che cazzo non fare altro non possiamo fare se è così è così fatemi sapere cosa ne pensate io sto completamente schifato non so manco calzeria perché sto scoglionato questa sera proprio c'è proprio una merda proprio mi raccomando iscrivetevi al canale glacius gianorosso seguitemi su instagram marco guacci sempre solamente forza lecce solo per la maglia solo per la maglia quando cacciate le cugli unica muovo un sciocacola reggiana reggiana quella c'è già il dente avvelenato perché all'andata gli abbiamo 27 a 1 e mo quelli ci faranno pure il culo ha già fatto pure prima ci vediamo al prossimo video bari merda tutta la vita svegliati po cacciati sti cazzo dei cucchioni porco giuda porco giuda cazzo